buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo il gadget ormai da me preferito per collegare android auto wireless il mio cellulare e questo è quello che la novità che dovrebbe essere il fratello o il cugino vedete lui non ha la gobba lui ha la gobba entrambi hanno questo cavetto che li collega all'auto lui è più largo guardate siamo sui siamo sui 6 centimetri e mezzo lui invece notevolmente più più stretto siamo sui vedete 50 lo spessore adesso vediamo un po se riesco a misurarlo lo spessore suo è vedete uno e mezzo lo spessore di fulmine con la gobba nella parte con la gobba vediamo è anch'esso di un e mezzo o più o meno quindi diciamo che lui è più largo lui è più stretto lui ha la gobba lui non ha la gobba ma al di là di queste di queste differenze di misure che parliamo di centimetri dentro l'hardware è lo stesso o no il funzionamento è lo stesso o no vedete attualmente siamo connessi android auto wireless con questo senza gobba copertine spotify qua sul cruscotto allora la risposta è sì sono uguali hanno lo stesso hardware hanno la stessa velocità di collegamento ad android auto wireless entrambi la linea non cade per entrambi l'ip da inserire nel browser per fare la procedura di aggiornamento firmware è lo stesso e la numerazione del firmware che troverete è la stessa quindi sono sicuramente uguali perché stessa numerazione firmware stesso ip per fare gli update stesso funzionamento stessa velocità di collegamento nel momento in cui salite l'auto posso affermare che sono identici questo il primo giorno non so perché ha avuto delle disconnessioni però poi nel proseguo dei giorni e dei viaggi che ho fatto si è comportato esattamente come quello con la gobba quindi probabilmente sarà stato il primo giorno sarà stato un caso non lo so però resta il fatto che io mi sento di affermare che sono uguali quindi quale comprare è identico 630 milioni e 595 mila 754 è partito l'assistente di google quindi funziona l'assistente di google dicevo quale comprare è uguale quello che costa meno comprate io vi consiglio di comprarli su amazon perché se poi ci dovessero essere dei problemi con la vostra auto o col vostro smartphone avete 30 giorni per fare reso su amazon se lo comprate su aliexpress o in qualche altro sito e poi per qualche motivo la vostra auto non lo digerisce cosa che non credo ma può anche essere e in quel caso vi attaccate quindi io vi metterò in descrizione video il link per fare l'aggiornamento firmware con una guida creata da me il link di acquisto ad amazon e il link alla recensione di questo qua che ripeto è un gran prodotto è un gran prodotto perché io ho provato android a wireless ho provato card sci-fi ho provato un po tutti questi gadget e vi ripeto per me questo qui è il migliore per è il migliore per affidabilità per velocità di collegamento non ha molte personalizzazioni quindi non potete cambiare dpi del la risoluzione del display non non potete fare operazioni ma solo l'aggiornamento firmware però visto che funziona bene anche anche la necessità di fare queste questi cambiamenti io la vedo superflua sinceramente quindi questo è un prodotto android to android quindi collega il vostro smartphone android al vostro android auto punto e basta se invece dovete collegare un iphone questo non va bene non sfrutta il modulo carplay quindi non è che il vostro sistema multimediale dell'auto vedrà collegato un iphone anche se poi si aprirà la schermata di android auto wireless no è come se voi aveste collegato il vostro smartphone via cavo invece ce l'avete via wireless con prodotti come carlin kit 4 8 cast u 2 x per dirne alcuni invece invece in quei casi il vostro il vostro sistema multimediale vedrà collegato un iphone e nel mio caso qui perderei le copertine spotify e le telefonate le potrei fare solo attraverso l'app qui telefonica vedete mentre con il gadget questo qui con a wireless con carlin kit a 2a con card sci-fi invece invece per non perdo la possibilità di telefonare anche con il bluetooth dell'auto quindi a mio parere è la soluzione sempre da da preferire secondo me abbiamo detto tutto saluto gli amici del gruppo telegram android auto con i quali spesso mi confronto su questi gadget che in molti hanno acquistato fulmine in molti hanno acquistato fulmine senza gobba e sono soddisfatti quindi questo è un video per chi ha il dubbio sono uguali o non sono uguali si sono uguali comprate quello che costa meno a me esteticamente piace più quello con la gobba perché è più stretto e quindi lo incastro meglio ma parliamo veramente di di dettagli di cose di centimetri vi saluto tutti spero che il video sia stato utile magari lasciatemi un like per aiutarmi così ne comprerò altri ciao ciao